Salve io sono Piglio e benvenuti nel centesimo episodio della Cazzocraft Signori come vedete ci troviamo in una location diversa dal solito Visto che ormai penso vi eravate abituati un po' come anche io a iniziare l'episodio verso la zona del porto Cioè da quella parte, perché comunque stiamo continuando il porto, o meglio sto continuando il porto Devo ancora finirlo, pian piano lo finiremo anche nei prossimi episodi Però essendo questo il centesimo episodio, come vi avevo detto forse nello scorso episodio ma anche negli episodi precedenti Avevo intenzione di fare uno speciale centesimo episodio in cui vi mostro tutto quello che ho fatto finora Questo sia perché comunque voglio far vedere ai nuovi iscritti tutto quello che ho creato in cento episodi che comunque non tutti hanno visto E sia perché magari chi vuole iniziare a vedere la serie da adesso o comunque chi la vedrà nei prossimi episodi Magari inizierà la serie a vederla tipo da, non lo so, l'episodio 110 per dire magari vedrà che c'è l'episodio 100 che è un episodio riassuntivo E così non avrà bisogno obbligatoriamente di vedersi tutti i cento episodi precedenti Certo non che a me dispiace, cioè se li vedono sono visualizzazioni che a me non dispiacciono mai Magari anche qualche like in più Però sapete com'è? Ci tengo comunque a facilitarvi le cose Così magari chi si vuole avvicinare a questa serie può farlo tranquillamente senza doversi rompere il cazzo per cento episodi Visto che comunque i primi video non erano proprio bellissimi Visto che comunque non avevo una buona dialettica, non riuscivo a parlare per bene Insomma erano proprio i primi video del canale Quindi come tutti i primi video di qualsiasi youtuber Sono un po' una merda Comunque signori io direi da iniziale, da quella che è la casa Che l'abbiamo vista già nello sfondo della intro Che come vedete potrebbe sembrare non finita In realtà questo è proprio lo stile che io volevo dare alla casa E che poi alla fine sono riuscito effettivamente a dare Certo l'idea iniziale era quella di fare solo queste tre Questa specie di tre tunnel interni alla montagna Poi in realtà si è aggiunta la balconata Che mi piaceva l'idea di avere una balconata E si è aggiunta quella mini finestrella giusto perché c'era tipo il corridoietto E mi piaceva l'idea di fare una finestrella pure per dare una forma diversa e non farle tutte rotonde La montagna è effettivamente così Cioè il senso della casa è fare una casa interna alla montagna Che sporga solo diciamo la parte delle finestre E sinceramente a me piace veramente tanto Potrebbe non essere bellissimo In realtà da questa parte come vedete io vi ho scavato il muro Perché qui ci doveva essere una scala Ma alla fine penso la scala la andrò a fare molto molto più avanti Quando inizierò a fare tutto il sistema di stradine Che portano anche agli edifici che ho fatto nella parte retrostante alla casa Quindi il faro, la farm di mucca e tutte le altre cose che vedremo dopo Quindi penso quella scala la farò in futuro Però comunque ci sarà lì una scala che diciamo completerà la parte delle mura Che contornano la casa Però alla fine la casa comunque Devo dire che a me piace così anche senza andare a modificare ulteriormente il muro Che comunque in realtà è tridimensionale Praticamente se nel senso l'ho scavato un po' Gli ho lasciato qualche blocco così per dare tridimensionalità Non è proprio piatto anche se potrebbe sembrarlo Comunque iniziamo dall'entrata Che come vedete ho fatto interna a questa montagnetta di terra Perché mi piaceva l'idea di avere anche l'entrata della casa interna alla montagna Quindi ho fatto questa montagnetta artificiale E questa è l'entrata Come vedete comunque i colori sono quelli che sono Mi sono adattato con i materiali che avevo all'inizio della serie Calcolate la casa l'avrò iniziata a fare tipo al quinto o sesto episodio se non sbaglio E non è che avessi tantissimi materiali Vi ricordo che io sono tipo sponato in una giungla Poi ho trovato solo savana su savana su savana Quindi acacia e qualche berce che ho trovato Un po' di dark oak Insomma quello che ho trovato ho utilizzato Comunque entriamo qui Fatto il corridoietto Anzi vi faccio vedere prima che dove siamo saliti Da direttamente su quella che è la balconata C'è un piccolo balcone dove poi non si può andare da nessuna parte E poi si va in questo corridoietto dove c'è questa Non lo so questa specie di zona lettura Zona relax Che è quella piccola finestrella che abbiamo visto dall'esterno Che dà sulla parte delle coltivazioni Sul capanno degli attrezzi Del contadino Non mi ricordo nemmeno più come l'ho chiamato Poi si scende da questa parte E si va nella zona diciamo principale Che è quella dove ho il letto E poi c'ho qualche gesto così Qualche crafting table Insomma roba messa per abbellire Queste bellissime piante con le lucine Che sono bellissime Non mi ricordo come si chiamano Ma sono fantastiche E qui c'è un armor stand Con un'armatura a cazzo trovata tipo nei forzieri Nelle mineshaft Non mi viene mai il nome E l'ho messa lì giù per abbellire Come anche queste librerie Anche le librerie qui dietro Insomma ho cercato di fare qualcosa di carino Questo invece è l'acquario Che doveva essere l'acquario pieno di pesci Che poi in realtà pesci non ce ne sono Perché alla fine non mi sono mai messo a trovare i pesci E metterli dentro Vedete dentro ci sono le alghe Che ho messo solo per fare l'acqua tutta giusta Senza dover mettere tutti i secchielli a mano Che era una rottura di coglioni Vi giuro che prima o poi metterò comunque dei pesci Se me ne ricorderò Lì fra l'altro vedete il pezzo di corallo Che io all'inizio la prima volta che l'ho presi Era tipo rosa Era un pezzo di corallo che prendevo da un wandering trader E niente l'avevo lasciato senza acqua E diventato grigio perché il corallo è morto Io non sapevo morisse Ma vabbè questi sono i dettagli Comunque andiamo nella seconda stanza Che come vedete è la stanza del magazzino Un magazzino semplicissimo Ci sono tutte le cesta a due piani Poi ci sono i quadri che indicano cosa ha all'interno La cesta che si trova sotto il quadro In questo caso vabbè roba di mare Roba di legno Questi sono stone bricks Terra Cobblestone Roba del nether Insomma Vabbè avete capito Qui ci sono tutti gli ore Diamanti Ne ho ancora un bel po' 28 In realtà c'erano altri sparsi un po' Ma comunque lo vedrete adesso che andiamo avanti Qui poi c'è una Come cazzo si chiama? Una No non si chiama Repair Name Vabbè avete capito Un'incudine Lo dico in italiano perché non mi viene il nome in inglese Giusto per in realtà Non la uso praticamente mai Però ce l'abbiamo sempre per abbellire Poi c'è la parte della zona fornace In zona fornace come vedete c'è tutto questo muro pieno di fornace Che non utilizzo praticamente mai Perché stando sempre in giro Va a finire sempre che mi creo un'altra fornace Utilizzo quella Però comunque abbiamo la zona fornace Alla fine l'idea iniziale era quella di fare un sistema tipo sopra con dei cart Con una farm di Come cazzo si chiama? Di bambù E dare in automatico il carburante a tutte le fornace Poi in realtà non l'ho ancora fatto Lo farò probabilmente in futuro Ma per adesso non l'ho ancora fatto Anche perché il bambù ripeto Io ero convinto di averlo In realtà bambù non ne ho E a quanto pare O l'ho lasciato in qualche chest Da qualche parte nel mondo Oppure l'ho perso Poi qui come vedete c'è il cobblestone generator Che funziona alla fine È un po' lentino Però comunque funziona Non è automatico Mi devo mettere qui Rompendomi il cazzo pesantemente A rompere tutto a mano Però alla fine Non so se vi ricordate Ma quando avevo il cobblestone generator Vi dissi un trucchetto Cioè vi mettete qui Mettete un piccone possibilmente Bello resistente Quindi diamante Nederite Comunque quello che avete Però cercando di stare attenti a non romperlo Se avete magari un piccone di nederite E incantato E vi mettete qui col mouse E sul mouse Tipo sul tasto sinistro del mouse Mettete un elastico In modo tale che rimanga così fermo A scavare Mentre poi fate quel cazzo che vi pare E poi ovviamente Tutta la cobblestone Se ne va nella cesta Dove qui c'è la cobblestone Che viene raccolta E io poi utilizzo la cobblestone Per fare gli stone bricks Che utilizzo per tutte le costruzioni Per quanto riguarda la casa Nella parte superiore finita Vi dico la parte superiore Perché ovviamente Per chi non ha visto Poi la parte del Del sotto della casa Lab sotterraneo Ovviamente non sa che c'è una parte sotterranea Da cui si eccede Attraverso la parte dell'entrata Questa specie di Come posso chiamarla Non isoletta centrale Come si può dire Questa specie di salottino centrale Ecco diciamo così Dove come vedete Qui ci sono due porte Che fra l'altro Io avrei dovuto qui Cambiare la terra E mettere tipo Legno o altro Ma non l'ho più fatto Perché me ne sono dimenticato Come vedete Qui non c'è l'acqua Ma l'acqua sta più giù Perché si accede a quello Che è l'ab sotterraneo Ab sotterraneo Che in realtà All'inizio doveva essere fatto Tutto in muschio Tutta la parte sopra Doveva essere fatta in muschio Però in realtà Quando l'ho fatto Non avevo ancora trovato Una lush cave E quando sinceramente L'ho trovata Ormai avevo finito lo stile Ho solo aggiunto Le specie di liane Che non mi sta venendo Assolutamente il nome Giusto per dare Un po' di colore Un po' di luce Con le bacchie luminose Però ormai L'avevo lasciato Con lo stile Di quando avevo scalato tutto Che comunque Alla fine è carino E quindi L'ho lasciato poi così Come vedete Qui nel lab sotterraneo Questa è la parte centrale Del lab sotterraneo Non c'è tantissimo Cioè ci sono giusto Delle bench messe a caso Qualche chest Barrel Qualche tavolino Qualche chest lì Qui c'è una specie di menzolina Su cui poi non ho messo un cazzo Effettivamente la potrei fare meglio Però vabbè sti cazzi Tanto non ci vediamo quasi mai Qui se non per andare a scavare Qui c'è un'altra menzolina Dove ho messo una piantina E una lanterna Giusto per illuminare Qui fra l'altro come vedete C'è la colonna d'acqua Che poi ci riporta su Quindi semplicemente Si esce qui dall'altra parte Rispetto a dove ci siamo buttati Poi vi faccio vedere Che nella parte sempre superiore Del lab sotterraneo Perché questa è sempre La parte superiore Poi c'è la parte giù Che è un buco enorme Vi faccio vedere Che ci sono due stanze Iniziamo magari da quello là Che mi piace di meno Che è tipo il magazzino Perché si Non mi bastava il magazzino Fatto in casa Ho pensato Senza fare due metri in più Salendo lì Andando fino a sopra a casa Faccio un altro magazzino qui Dove metto i materiali Che prendo magari scavando Più che altro Non tanto per gli ore Perché gli ore li porto sempre in casa Però magari vado a scavare Tutta la cobblestone Non lo so che cazzo c'è più Il granito La diorite Tutta la roba che trovo Prendo la metto qua Senza portarla fino a sopra Così diciamo Sopra abbiamo le ceste premium Con le robe più interessanti Qui abbiamo le ceste Più random Con blocchi Che non ci servono Lì per il momento Che poi magari vado a recuperare Quando devo fare Qualche costruzione Alla fine qui non c'è molto Qualche tavolino giusto per Magari c'è sempre la cosa Tipo magari quello che va a scavare Si deve ripusare Non che ci possiamo effettivamente sedere Però lo metto così giusto per C'è una crafting table Che comunque può servire Per fare qualche attrezzo Poi attrezzi li ho messi qui anche Per non lo so Per riempire Per dare colore Poi non rimane che servono Qualche fornace Se magari devo cuocere Un po' di ferro Per fare qualche attrezzo E base Essenzialmente Qualche barrel Niente È carino Però niente di particolare La cosa che invece mi piace di più È questa qui Quest'altra stanza Che è la stanza Dove tra l'altro Qui ci ho aggiunto l'acqua In realtà ci dovevo mettere La lava Però non sapevo Se prendevo fuoco Poi ci ho messo l'acqua Che mi piace Non mi piace Non so se effettivamente Mi piace Non mi fa impazzire Però forse la lava Ci sarebbe meglio Però non lo so È da vedere Comunque questa è la stanza Forse che mi piace di più Che è la stanza Degli incantesimi Che per adesso Non credo di aver mai utilizzato Forse una volta Giusto per provare Però veramente Questa stanza Mi piace tantissimo Perché comunque Come vedete Ho fatto tutto il muro Bello texturizzato I colori comunque Ci stanno veramente da dio E questo tetto Fatto con il legno del nedere Quello lì Che non mi ricordo Come si chiama Vabbè comunque Quella roba lì Che si trova nei geodi All'interno delle miniere Poi c'è la crying opsina Che ne ho messo Un blocco lì sopra Un blocco qui sotto Alla enchantment table Giusto per richiamarlo Cioè veramente Mi piace tantissimo Mi avete detto più volte Che queste librerie Sono 15 Intorno alla All'enchantment table Non bastano Io effettivamente Avevo detto Che si poteva arrivare a 19 Voi nei commenti Quando io ne avevo messi 19 Mi avete detto Il massimo è 15 Poi mi avete detto Invece di nuovo Che il massimo è 19 Quindi sti cazzi Per adesso lascio così Che sono 15 Poi caso mai Dovesse utilizzarla Andiamo ad aggiungere Altre librerie Però vabbè Sti cazzi Per adesso ripeto Poi per il resto Comunque qui ci sono Altre mensoline Con altre librerie Sempre giusto per dare Colore per riempire E non mi ricordo Neanche che cazzo Fanno riferimento Tipo vabbè La piantina Questo non lo so Doveva essere tipo Una ciotola Non mi ricordo L'altra piantina Questa invece sarebbe Tipo la bacchetta Da strega Da stregone Poi c'è qualche cese Che fra l'altro Ah ok si aprono Non me ne ricordavo Ci sono dei libri C'è Power 5 Silk C'è Piercing 4 Ma io non mi ricordavo Assolutamente di averli Cioè figuratevi Da quanto tempo Non scendo qui Poi altra cosa Dell'hub sotterraneo E questa parte qui Che c'è un buco Praticamente abnorme Non so se riesco A farvelo vedere Un po' meglio Vabbè più o meno Si capisce Che è bello lungo Bello grosso Bello profondo Ecco non mi veniva Il termine esatto Qualsiasi cosa dici Comunque sembra Sempre fraintendibile E questo non è altro Che una specie di Mega sensor Dove noi ci possiamo buttare Come vedete comunque Non è stato toccato Assolutamente Per quanto riguarda Le mura del buco Perché non mi andava Assolutamente Comunque questa è la parte Bassa Dell'hub sotterraneo Che è effettivamente Il sotterraneo Vero e proprio Dove come vedete Siamo arrivati O meglio sono arrivato A livello della Bedrock Poi ci ho messo Qualche blocco Giusto per riempire Qui ci abbiamo C'ho questa cesta Che per l'altro Prima o poi Dovrò far sparire Sta qua da mesi Da un anno quasi Da quando ho fatto In tutta questa stanza Non l'ho più spostata Perché sono stupido Io faccio le cose Poi mi dimentico Di definirle Però vabbè Comunque qui c'è Semplicemente una piccola Mensolina Con crafting table E come cazzo si chiama Fornaci Fornaci Senza dover salire Fino a sopra Ogni volta Perché comunque Salendo con l'acqua Non è che sia Particolarmente veloce La stessa cosa Forse da qui No Qui ci sono le geste Sempre con delle altre Mensoline E poi qui semplicemente Ci sono i tunnel Dove vado a scavare Questo qui è nato Più che altro forse E questo è il primo Che ho scavato No Dovrebbe essere questo Credo Ok sì Questo è il primo tunnel Che ho scavato Poi in realtà Quest'idea È nata come Idea per Fare un tunnel Praticamente infinito Nel senso che io Inizio a scavare Qui lateralmente Come vedete Tutti a distanza Di due blocchi In modo tale Che io quando scavo Posso vedere sotto Posso vedere a sinistra Sopra a destra E non mi perdo Nessun blocco Perché anche qui Vedo allo stesso modo Sinistra a destra Sopra e sotto Quindi ho una visuale A 360 gradi Di tutti i blocchi E non rischio Di perdermi diamanti O altro E soprattutto Qui comunque Posso scavare All'infinito Magari finché In un tunnel Come questo Non trovo Per dire la lava In quel caso Poi esco E vado a Iniziare a scavare In un altro tunnel Quando questi Quattro tunnel Li ho finiti Di esplorare Calcolate che Quello l'ho tipo Esplorato Sono arrivato A un punto Che c'era la lava E poi Semplicemente Sono andato Un po' più a sinistra Che comunque Qui non ho altre porte Come vedete E quindi ho continuato Perciò ancora Quell'unico tunnel Lo sto utilizzando Tuttora Quando recupero Il materiale Quindi ancora Non ho utilizzato Quest'altri Quest'altri tunnel Però Quando dovessi Poi utilizzarli E finirli Fra parentesi Cioè che trovo la lava E non ho modo Di andare avanti Semplicemente Scavo ancora più avanti Qui e faccio Altre porte laterali E questo si può Espandere all'infinito Ovviamente Non ha senso Fare la stessa cosa Anche qui Perché altrimenti Si incrocerebbero E sarebbe abbastanza Inutile Perciò l'ho fatto Solo su due lati Adesso saliamo Perché usciamo Completamente Da casa E ce ne andiamo Nella parte esterna Dove vi faccio vedere La parte della coltivazione Che poi alla fine Non è una coltivazione Automatica Anche se avrei voluto Farla Però effettivamente Era qualcosa di A parte troppo dispendioso Ma soprattutto Comunque È abbastanza lungo Da fare È abbastanza complicato Forse non è nemmeno Effettivamente fattibile Fare qualcosa Di completamente automatico Perché alla fine Puoi fare lo sdrop automatico Con l'acqua Con i dropper Che sganciano l'acqua Però non puoi fare Una coltivazione Che poi ti va a ripiantare Tutto in automatico A meno che di non fare Quella specie di coltivazione Su un unico blocco Che sia efficiente Basta spammare col bombile Però non è quello Che cercavo io Perché cercavo qualcosa Comunque di carino Per dare un po' di estetica Al mondo Infatti come vedete Qui ci sono un po' le scale Che ci portano all'interno Della coltivazione Che è praticamente Tutto grano O perlomeno quasi Adesso dove cazzo è la scale Eccola Tranne queste parti Sotto il bellissimo fungo Dove ci ho messo le torce Giusto per illuminare Dove ci sono le carotine E soprattutto le barbabietole Che queste mi sono tornate Utilissime Quando ho scoperto Che ci si può fare Il colorante rosso Perché io all'inizio Non lo sapevo Poi c'è anche questa piccola zona Oddio no Si è sdroppato qualcosa No per fortuna Comunque c'è questa piccola zona Dove ci sono i meloni E le zucche Anche qui solo per dare colore Perché poi alla fine Non le utilizzo mai Al massimo qualche zucca Se devo fare qualche lanterna Qualche gecolantern Però se no non le utilizzo mai Mucca stai ferma lì Non ti buttare sul grano Perché me lo sdroppi Maledetta Poi come vedete Ho fatto dei lampioni Giusto per creare Un sistema di illuminazione Che poi ho ripreso comunque Un po' in giro qui davanti E che comunque Continuerò a riprendere Quando farò le stradine In giro per tutta l'isola L'ho ripreso anche qui davanti Casa Perché comunque È uno stile che mi piace Prima di farvi vedere Vabbè oddio Vi posso già far vedere la fontana Che comunque è carina Abbastanza grande In realtà all'inizio La volevo fare più piccola Poi in realtà è diventata Una cosa abbastanza abnorme Non tanto per il centro Ma più che altro Per la parte tutta intorno Che doveva essere inizialmente Tipo 3 o 4 blocchi Più stretta Poi alla fine L'ho fatta più larga Perché mi piaceva così Mi dà il senso di imponenza Bella Grossa Potente E alla fine ci fa anche Da rotonda Fra parentesi Per svistare le varie stradine Che ci portano nelle varie parti Quando poi le andrò a fare Perché per adesso non le ho finite Anche se qui ce n'è già Un po' diciamo Di stradine Però mancano tutte quelle Che ci portano da quella parte Che faremo in futuro Qui c'è un blocco di lava Non mi ricordo Perché se non sbaglio C'era tipo C'era tipo Una specie di piccola pozza di lava L'ho semplicemente Mantenuta qua C'è ho mantenuto Un blocco di lava Così giusto Per bellezza Per Non lo so Non mi ricordo Perché l'ho lasciato Però Fatto sa che l'ho lasciato Qui fra l'altro Viene andare lì sopra Vi faccio vedere Che qui sotto Abbiamo un spawner Di ragni A cielo aperto Che adesso ho disattivato Perché ho riempito di torce Però era tipo così Cioè semplicemente scendevi Io quando ho scelto di fare La casa Sentivo sempre Sti cazzo di ragni Dicevo ok Sicuramente c'è qualche caverna sotto In realtà no C'era questa entrata Con lo spawner di ragni lì Ok va bene Mi è piaciuta come cosa Comunque All'inizio pensavo di farci Poi una farm di stringa Poi in realtà La farm di stringa L'abbiamo fatta lì sotto Ve la faccio vedere dopo E sinceramente comunque È rimasto lì per ricordo Però non è che alla fine Sia tornato più di tanto utile Adesso andiamo qui sopra Sopra questa stradina Facciamo tutto il giro Da dietro Perché qui sopra C'è il capanno degli attrezzi Che è dedicato completamente Alla coltivazione Dove semplicemente si entra Come vedete Ci sono dei quadri Con degli attrezzi Che si potrebbero usare Lì per la coltivazione Ovviamente è sempre Solo estetica Qui c'è la crafting table C'è un composter Per fare il bombilla Anche se non lo utilizzo mai Qui c'è un tavolo Con una sedia Giusto se il contadino Si dovesse sedere Perché è stanco Ovviamente vi ricordo Che finché non mettiamo Tipo dei villager Sto posto non sarà mai Più di tanto animato Però prima o poi Li metterò Qui poi ci sono Le ceste Con del grano Dei semi Con quella roba varia Oh c'è il bambù Vaffanculo Allora dicevo io che c'era Mannaggia la miseria Che memoria del cazzo Vabbè c'avevo pure il cacao E Vabbè meloni E bidruth Ok ma c'era il bambù Vaffanculo Allora sapevo io che c'era Ok in futuro faremo La farm di bambù Sicuro Dunque questo è tutto Il capanno degli attrezzi Molto piccolo Avevo trovato un edificio Su google immagini Mi piaceva L'ho rifatto Però utilizzando La caccia Perché secondo me Veniva più carino Quello che avevo trovato Era tipo in hoc E sinceramente mi piace Anche dalla parte di dietro Forse sto non può La terra qui sotto Ma sti cazzi Qui ho usato comunque Anche il fungo per illuminare Direi che comunque ci sta bene Stacca bene pure il grigio Della caccia con il fungo Quindi ci sta benissimo Adesso seguiamo Quest'altra stradina Che ci porta a quella Che è la farm Di cane da zucchero Che come vedete Qui sono piantate Perché l'idea iniziale Che poi in realtà è rimasta E che forse un giorno finirò È quella di piantare Tutte le cane da zucchero In tutto questo spazio Diciamo questo piano terra E anche qui sopra In modo tale da riempire Qui tutto di cane da zucchero E circondare L'edificio diciamo Della farm di cane da zucchero Per l'appunto di cane da zucchero Fare tutto verde Bello Solo che non l'ho mai finito Cioè dovrei continuare A mettere cane da zucchero Ma non mi va mai di farlo Qui tra l'altro C'ho altro bambù Che mi ero dimenticato Ma vabbè Comunque qui si scende In questa piccola cavannetta E si arriva a questa Che è la farm di cane da zucchero Che alla fine è sempre attiva Solo che non produce un cazzo Perché se vado tipo qui Vi faccio vedere Comunque le cane da zucchero ci sono Oddio appena sdroppato Fra l'altro quindi vedete pure Come funziona Semplicemente Quando arriva sopra Al terzo blocco Ci stanno i sensori Che vedono il blocco cresciuto Attivano i pistoni sotto Che Fanno sdroppare le cane da zucchero Sotto come sentite Forse c'è un minecart Ecco l'avete appena visto Che poi arriva qui E scarica tutto nella cesta E vedete se sta scaricando Non è efficientissimo Però forse anche il fatto Che comunque Stando dalla parte del faro Dovrei essere abbastanza lontano Quindi forse Questa zona non la carica E quindi Non produce come dovrebbe Perché a questo la penso Visto che siamo al centissimo episodio Che Cesta sarebbe dovuta essere pienissima Per il resto Edificio normale Ho usato per l'illuminazione Anche queste cose Che si trovano nel nether Di cui ovviamente Non ricordo il nome Però comunque Tutto abbastanza carino Sempre fatto con i materiali Che avevo al momento Non avevo chissà cosa Ho usato quello che avevo L'ho voluta fare Con uno stile Diciamo abbastanza retro Quindi con il legno Così grezzo Con i blocchi di vetro Con l'hocco Con la berce Con le lampade di redstone Che secondo me sono bruttissime Per cui ho cercato Di dare una specie di effetto Ad incastro Per i due muri Per non fare il solito Angolo bruttissimo Come per dire Sta qui Giusto per fare qualcosa di diverso Però comunque Come stile È per l'appunto Uno stile vecchio Che però Secondo me ci stava Alla fine Sono uno che gioca a minecraft Da boh 2011 Che era quando è uscito minecraft Neanche mi ricordo Ci gioco praticamente dall'inizio Quindi un po' di stile vecchio Quando siamo abituati A vedere tutto super moderno Secondo me ci stava Ora andiamo da questa parte Della fontana Perché vi faccio vedere Quella che è la farm di stringhe Che si si trova qui sotto Questa specie di mini edificio piccolissimo E effettivamente Vederlo da fuori Non si direbbe Come vedete Qui c'è sempre Un solito ascensore d'acqua Dove c'è anche La freccetta Che ci indica Giù e su Noi ovviamente Andiamo giù E andando qui sotto C'è questo corridoietto Che secondo me È molto molto carino Dove Arrivati in fondo Al corridoietto Possiamo vedere Questa finestrella Che ci fa vedere Quella che poi Alla fine È la farm di stringhe Che per attivarla E disattivarla Si va da qui dietro Ovviamente io L'ho disattivata Perché se vi ricordate Forse Una ventina di episodi fa Io avevo il problema Che quando mi avvicinavo a casa Laggava tutto E il mondo mi moriva Ma questo perché La farm è talmente efficiente Che in fondo qui Poi Se ne va tutto lì a sinistra In un blocco Che adesso vi farò vedere Anzi ve lo vado a far vedere Tanto qui non c'è un cazzo Da far vedere Qui semplicemente Per attivarla Metto la stringa Con la forbice Devo romperla Abbastanza velocemente E si crea un bug Che fa Sdroppare stringhe infinite Ma vabbè Se vi andate a recuperare L'episodio Della farm di stringhe Comunque lo vedete E come vi stavo dicendo Comunque le stringhe Poi vengono convogliate Tutte lì Che arrivano fino a questo blocco qui E si erano accumulate Tipo migliaia e migliaia Di stringhe In un unico punto E quindi Quando mi avvicinavo A questo chunk Laggava tutto Come vedete Comunque la farm È efficientissima Cioè calcolate Una chest del genere Con 64 Sono 64 No Quante sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 Per Da 64 Di stringhe Più o meno Si fanno in 10 minuti 15 20 Ma anche forse Una mezz'oretta Comunque capite Non ci vuole un cazzo Qui poi ci sono altre cose Vabbè Queste non sono chest Che si riempiono in automatico Semplicemente le prendo E le sposto lì Sì effettivamente Potevo mettere L'hopper Questa farla un po' più alta Mettere l'hopper E mettere le chest Più in basso Però sti cazzo Alla fine l'ho fatto giusto Per prendere le stringhe Fare i blocchi E metterli tipo qua Che poi comunque I blocchi non ce ne sono Perché al momento Quando li facevo Mi li portavo al faro Per fare la costruzione Del faro E le altre cose che ho fatto Comunque la farm di stringhe È questa Molto piccola Molto carina Molto efficiente Soprattutto Non so se quando Aggiorneremo la 1.20 1.20 1.20 1.1 Scusate Perché comunque Vi ricordo che siamo Nella 1.19 1.4 Ancora Per scelte personali E non so se Continuerà a funzionare Lo spero Perché comunque La lana mi è servita parecchio Per il faro Ma anche per la chest Che ho fatto lì in fondo Quindi comunque servirebbe Qui vi faccio vedere il Dark Hawk Piccolino Che abbiamo preso Da un Wandering Trader Io convintissimo Che il Dark Hawk Crescesse anche singolo Come se non sbaglio Lo spruzzo Perché può crescere Sia singolo Sia a 4 Convintissimo Che anche il Dark Hawk Fosse così L'ho messo qui Ho detto Dai abbiamo il Dark Hawk Ho bombillato Tipo sprecando Due stack di bombill E niente È rimasto qui Perché giustamente Non può crescere Quindi sì Questo qui rimarrà Tipo come ricordo Della mia stupidaggia Della mia scremenza Perché semplicemente Sono stupido E niente Rimarrà qui Solo per ricordarmi Quanto sono Una testa di cazzo Ogni volta che ci passo Comunque direi Di andare da questa parte Saliamo però da qui Perché il porto Ve lo faccio vedere Alla fine Quando finiamo Tutto il tour Visto che l'ultima cosa Che abbiamo fatto E che ancora sto finendo Qui come vedete Ho piantato Un sacco Un sacco Di alberi Di tutti i tipi O meglio Di tutti i tipi Che ho Poi alla fine Manca ancora Lo spruzzo La mangrove E tanti altri Però come vedete Per l'appunto Ne ho piantati Un bel po' Perché effettivamente Mi servono Vi faccio vedere Una cosa che ho fatto Di recente Che è fra parentesi La farm di liane Perché mi servivano Le liane Per fare le costruzioni Lì Della zona Dei pirati Anche per fare altro In realtà quindi Ho fatto semplicemente Questi alberi Così carini Ci ho messo le liane Che poi crescono Le taglio Le metto E è una farm manuale Del cazzo Che però secondo me Ci sta bene Prima di entrare Lì dentro In quella bellissima Zona Che a me piace tantissimo Vi faccio vedere Che qui ci sono ancora I nostri amici Cavalli scheletrici Apparsi durante un temporale Della madonna E dove mi sono avvicinato Ne ho colpito uno Ne sono diventati quattro Che sono sinceramente I cavalieri dell'apocalisse E niente Poi gli ho fottuto I cavalli A due ho dato anche il nome Adesso non mi ricordo Come si chiamano Se non sbaglio Uno si chiama termosifone E cosifone termo Che per gli amici E termosifone E rina masche Che per gli amici E mascherina Ovviamente E vabbè Qua potevo mettere la terra Ma sti cazzi Comunque rimarranno Qui per adesso Perché non so dove metterli Anche perché sinceramente Mi dimentico E adesso ci dirigiamo A questo che Come vedete Forse si intuisce Dal gigantesco piccone Che c'è in alto E dal fatto che Questo sia un geode enorme Questo è il lab Minieristico Dove nella parte alta Come vedete Ho messo tipo Dei vetri Comunque Diciamo l'intenzione Era quella di fare Proprio un geode effettivo Poi l'ho trasformato In un bar Essenzialmente Questa è una specie di bar Che essenzialmente Fa da locanda O meglio Più che da locanda La taverna Del minatore Quindi il minatore Va giù a minare Nelle miniere Poi quando sale Si può rilassare Prima di andarsene a casa Questa era più o meno L'intenzione Prima di scendere Vi faccio vedere Che qui ci sono anche i lama Sottratti a un wandering trader A cui non ho dato nomi Ma ho semplicemente dato Le cose tricolore Italianissime Adesso sono due italiani Due lama italiani E con quelle non sono Ovviamente desponate Per fortuna E prima o poi Anche con i lama Farò qualcosa Però mi devo ricordare Comunque scendiamo qui Come vedete Ho messo il cartello Con scritto hub minieristico Andiamo nella parte bassa Vi faccio vedere C'è tipo qualche spezzone Che dà su dell'acqua Su delle entrate di caverne Giusto perché mi piaceva Qui c'è tutta la parte in vetro Che dà sulla caverna Sottostante all'isola Che poi vi faccio vedere dopo Adesso che andiamo Nella parte dietro Che comunque è molto molto bello Qui c'è della parte Che dà nell'acqua Vedrete dell'acqua Anche un po' più avanti Infatti tutta questa costruzione Si trova sotto l'oceano Che circonda la nostra isola E sinceramente È molto molto bello Io vi ricordo all'inizio Per chi ha seguito tutta la serie Volevo fare un hub sottomarino Quindi un hub sott'acqua Che ancora in realtà Voglio fare nella zona del porto Solo che poi alla fine Questo qui d'hub sottomarino Si è trasformato in hub Minieristico Per il semplice motivo Che andando più giù Ho trovato Quello che è un Uno spawner di scheletri E soprattutto Ho trovato La zona dove ci sono Spesso di slime Che tipo qui sopra Questo è l'hub mineristico Molto molto brutto A me non piace Però tipo in questa zona Qui fuori Spesso spawnano slime Quando ci sei da un po' E quindi alla fine Ho deciso di definirlo Hub mineristico Perché alla fine Da dentro le miniere Dentro la caverna Che io comunque qua Ho esplorato per gran parte In realtà C'è una bella zona Che ancora non ho esplorato Che prima o poi Forse esploreremo Ma non lo so Perché alla fine Ho deciso Come vi dirò poi Alla fine dell'episodio Che non voglio Sinceramente Andare ad esplorare Voglio fare una serie survival Un po' diversa Ma poi vi dirò comunque Alla fine Comunque come vedete Anche qui si dà Sempre in una zona di miniera Non c'è nulla di particolare Tavola qui c'è la Blast Furnace Che ho fatto una volta Mi dimentico di averla fatta Non la uso mai Ma sti cazzi Qui ci sono le cesse Con del materiale Fra l'altro sono Piene di materiale Ah questa si chiama Metista fra l'altro E questo basalto E questa calcita Ok Comunque sono strapiene Di materiale Ragazzi Non avete idea Del materiale che c'è qua Ma in giro Comunque per il mondo Poi c'è qualche letto Giusto per dormire Se comunque Magari devo rimanere Qui in miniera Quindi devo anche dormire Per salvare lo spawn Qui come sentite Ci sono già gli scheletri Che si stanno farmando In modo automatico Che si farmano Grazie al falò Che li ammazza Quando arrivano qui E qui poi ci sono Tutte le ossa Ovviamente ne mancano Un bel po' Perché le ho utilizzate E ci sono anche Un botto di frecce Qui c'è una cesta Va bene inutile Ho messo qualche menzolina Giusto per abbellire Fra l'altro qui Tutto fatto con la lana Perché mi piaceva L'idea di fare qualcosa Di bianco Senza andare a utilizzare Sempre la calcite Che ho utilizzato Comunque anche qui Quindi non volevo usare Sempre solo calcite Sempre gli stessi materiali Ok questo è il lab minieristico Nella sua funzione Di farci andare Nelle miniere Farci andare lì Allo spawner Di scheletri Automatico Ovviamente La cesta non era piena Perché anche questo Non carica praticamente mai Il chunk Però quando ci avviciniamo Vedete che già È super efficiente Come ti avvicini Tutti gli scheletri Vengono portati In quel punto Vengono killati E quindi Si produce una grande Adesso risaliamo sopra Perché vi faccio vedere Ah qui c'è un'altra finestrella Che prima Non vi ho fatto vedere Sono molto belle Queste finestrelle Messe sulle scale Se devo essere sincero È stata una bella idea Venuta completamente a caso Però è stata una bella idea E da questa parte direi Che ce ne andiamo Verso Verso il faro Sì perché quella L'ho fatta dopo Quindi ce ne andiamo Verso il faro E dal faro Vi faccio vedere Che già dall'esterno Comunque è una costruzione Imponente Mi ha richiesto Un sacco di tempo Un sacco di materiali Cioè la lana Ovviamente è facile farla Il problema è fare quella rossa Ho dovuto farmare Un botto di bitroot Bitroot che è Ovviamente poi utilizzato Per fare il colorante rosso E fare la lana rossa Fra l'altro vi faccio vedere Che tutte le linee Rosso e bianche sono uguali Tranne questa bianca enorme Che non so per quale motivo Nonostante ho cercato Di fare tutto per bene Questa qui è uscita più grande Ma sti cazzi Comunque il faro è circondato Da questa piazzetta Che non ha alcuna utilità Al momento Non l'ho nemmeno illuminata La dovevo illuminare Poi non l'ho fatto Perché ho detto Quando farò la stradina Farò tutto il sistema Di illuminazione Illuminerò anche qua Poi in realtà Ancora non ho fatto le stradine Non ho fatto il sistema Di illuminazione Quindi sti cazzi Si farà in futuro Comunque questa è l'entrata del faro Dove ci sono ancora le ceste Di quando ho fatto il faro Che rimarranno qui Perché tanto sono sicuro Che mi dimenticherò Di andarle a levare Qui come vedete Al centro del faro C'è una mega scala Che ci porta nella parte alta Vi anticipo già Che nella parte alta Non c'è praticamente un cazzo È semplicemente Una parte di avvistamento Così Non ha molto senso L'idea iniziale Era quella di fare Con le redstone lamp Un faro effettivamente Funzionante Quindi con le redstone lamp Che giravano Cioè non che giravano Cioè si accendevano A giro In modo tale Da far sembrare Che ci sia effettivamente La lampadina che gira Poi in realtà Troppo sbattimento Troppe risorse da utilizzare Troppi sistemi Di redstone da fare Che io non so fare E quindi alla fine Ho semplicemente fatto Una specie di Non lo so Una specie di balcone enorme Facendo tutta questa parte esterna Intorno alla parte alta Che ci permette di guardare Tutto il nostro reame Tutta la nostra bellissima isola Comunque con tutte le cose fatte Ci permette di vederle dall'alto Che comunque È una bella vista Se devo essere sincero Soprattutto qui Dove c'è il lab miniaristico Comunque la taverna Dei minatori Con tutta la parte Di alberi verdi Comunque molto carino Qui già intravedete il porto Ovviamente non ancora finito Ma che poi finiremo Le prossime episodi Comunque molto 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 bello Adesso ce ne torniamo giù E c'è un modo più veloce Per scendere No eh Vi devo rifare tutte le scale Vabbè Ci rivediamo un attimo giù Perché vi devo far vedere Un'altra cosa Ed è una cosa Molto molto carina Ok siamo arrivati giù Forse l'avete sentito Anche prima quando sono entrato Ma ci sono delle mucche Questo perché sotto la gigantesca scala E sotto comunque il gigantesco faro Ho creato una stanza Una stanza molto rosa Molto 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 femminile Che è successo alle mucche Perché le mucche stanno volando Che cazzo è successo Perché queste mucche stanno volando Scusate Che è successo Ma si sono baggati Ma come cazzo Forse perché sono andate tipo Sopra la cesta E stanno qui sopra No come cazzo hanno fatto Ma non ho capito Perché cazzo stavano volando Vabbè Comunque questa è la stanza Dei guardiani del faro Guardiani del faro Che inizialmente sarebbero dovuti Essere tipo dei villager Poi in realtà Ho messo le mucche Perché come vedete Queste due mucche sono marroni Visto che ho scoperto Che durante i temporali Se una mushroom rossa Viene colpita da un fulmine Diventa marrone Non lo sapevo Quindi In modo molto molto sculato Ci siamo ritrovati Una mucca marrone Poi me ne sono ritrovata un'altra E li ho chiamati Questa candeggina Che è la prima che ho trovato E quest'altra l'ho chiamata Ace O Ace Che può essere l'ace Cioè la candeggina Sempre O può essere Ace Quello di One Piece E quindi ho fatto diventare Questi due i guardiani del faro Che ho lasciato qui sotto Incatenati Per apparentemente In realtà semplicemente Perché non voglio che salgano E ho fatto poi tutta Una specie di zona soggiorno Zona letto Zona tv Con Si diciamo Quello sia Una specie di maxi schermo Un tv maxi schermo 100 pollici Super mega ipar Ultra 4k E qui c'è una specie di Mini salottino C'è anche addirittura Il bagno Che fra l'altro E fra parentesi funzionante Nel senso che ci puoi abbassare E alzare la tavoletta Con fra l'altro Una grada Che da Sull'esterno Così giusto per Se riesco ad uscire Da sto cazzo di bagno Adesso vi ho fatto vedere Tutto quello che Comprende il faro E vi faccio vedere Una cosa che c'è qua vicino Che è molto molto carina Ed è anche una delle prime cose Che ho fatto E che si trova esattamente Tipo Qui dietro Sì eccola lì Che non è nient'altro Che la farm di mucche Farm di mucche Che io non utilizzo mai Cioè faccio prima Di andare in giro A ammazzare le mucche Cioè dare da mangiare Le mucche Così si riproducono Poi ammazzare quelle grandi E cuocere la carne Per avere la carne Sempre pronta Però comunque Qui c'è la farm di mucche Che fra l'altro C'è qualche mucca Già cresciuta sotto Semplicemente Qui si prende del grano Si sale sopra qui Si dà il grano A se stronze Che sono comunque abbastanza Si aprono le trapdoor Facendo tipo Così e così Così tutte le mucche piccoline Cadono giù E poi una volta Che le mucche piccoline Sono cresciute Come in questo caso Porca madonna Anche quando Registro gli speciali Mi devono chiamare Interrompere Porca miseria Comunque vi stavo dicendo Per l'appunto Una volta che le mucche Sono cresciute Si clicca questa leva E si va così In modo tale E niente Sono stupido E semplicemente Dovevo fare tipo così Molto velocemente Mi sono dimenticato Ero montainemente convinto Che la lava Si levasse da sola Niente Semplicemente ammazza Quelle mucche E ci dà la carne cotta E la pelle In questo caso Niente carne Perché si è bruciata Ma facciamo finta di niente E vi faccio vedere Che per coprire La farm di mucche Comunque era abbastanza brutta Alla fine Ho fatto una testa Di mushroom gigante Molto Fatta la cazzo Servivano in realtà Altri blocchi Diverso di voi Perché questi Non sono propriamente adatti Però in realtà Vista da lontano Fa comunque la sua Porca figura Quindi sinceramente Ci sta molto molto bene Ora Prima di andare sotto Alla locanda di pirati Vi faccio vedere Quella che è La costruzione Dello speciale di Natale Dove fra l'altro Vi ricordo che Se andate a vedere Il video Dello speciale di Natale C'è anche un contest Quando raggiungeremo Una cifra spropositata Di like Di iscritti E di commenti Perché è una cosa Che esettiverà Magari col futuro Quando le persone Vedranno questa serie E quando magari Io avrò Tanti 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 iscritti Però comunque C'è un contest Quindi se siete curiosi Andatelo a vedere Perché comunque Si tratta di vincere Gift card Anche da 500.000 euro Molto sempre in futuro E anche un gioco A vostra scelta Perciò se siete interessati Andate a vedere Lo speciale di Natale 2023 E questa è semplicemente Una cest regalo gigante Che fra l'altro Sono ceste che Il giorno di Natale Se non sbaglio Nel 2020 Mi pare Nel 2018 Mi sono refitata nel gioco Quindi quando tu Entravi il giorno di Natale O di Capodanno Le ceste avevano Tutte questa skin Se non ricordo male Mi pare E niente Ho semplicemente Creato una cesta gigante Dove vabbè All'interno Qui c'è tutta Una piazzetta Che la circonda Giusto per fare qualcosa Qui poi c'è Un corridoietto Che porta qui Alle varie parti Dove poi comunque Non c'è ancora un cazzo Ovviamente in futuro Qui magari ci sarà Il ponte che collega Con l'altra isoletta Qui magari ci saranno Altre costruzioni Quindi la utilizzerò Come piazzetta centrale Per smistare Tutte le varie parti Un po' come lo è La fontana vicino casa E vi ricordo Che qui all'interno Della cesta Comunque c'è Della roba Roba che Vi ripeto Se andate a vedere Lo speciale di Natale 2023 Non vedrete Però vedrete Come si sblocca Nel senso E una cosa Che sto costruendo All'interno Che ancora devo finire Che costruisco Quando ho il tempo libero Tanto comunque Finché tanto Raggiungiamo i like I commenti E gli iscritti I richiesti In quel video Si parlerà praticamente Di mesi Forse anche anni E niente Sto costruendo qualcosa Di carino È semplicemente Un'ambientazione carina Che poi si sbloccherà Diciamo Ce la potrete andare a vedere Quando effettivamente Raggiungeremo Quel tot Di richieste E niente Vi farò vedere poi Quella cosa Per inaugurare poi Effettivamente Il contest Che vi spiegherò Ovviamente Con il download Della mappa Come andare a procedere Per cercare di vincere Le varie cose Che metterò in palio Però ovviamente Si parla sempre del futuro Si parla molto Molto in futuro Comunque ritorniamo Qui vicino al faro Perché scendendo Da qui come vedete C'è una scaletta Dove c'è questa Piccola parte Che è una specie di Attracco Per le barche Di chi deve andare All'interno della locanda Dei pirati Infatti qui come vedete C'è una porta C'è scritto La locanda del pirata E c'è scritto Vabbè entrata Con la freccia Entrando qui C'è un corridoietto Con dei quadretti Da un botto Qui semplicemente Ci sono tutti i tavolini Tavolini e sedie Con questi qua addirittura Che danno tipo sul mare Con la vista sul mare Anche qui c'è scritto La locanda del pirata Per chi magari Si avvicina con la nave Qui e vede Che questa è la locanda del pirata Molto molto carina Costruzione fatta Abbastanza con cura Diciamo Questo è semplicemente Il bancone della locanda Qui fra l'altro C'è anche il magazzino Dove non credo Ci sia nulla Se non sbaglio Queste non si possono Nemmeno aprire Ok Non c'è assolutamente un cazzo Direi che da qui Posso uscire E niente Questa è la locanda del pirata Molto molto carina Secondo me Ci sono anche dei quadri Che richiamano comunque I teschi O comunque roba da pirata Anche qui Questo l'ho ripreso anche Lì all'entrata Perché mi piaceva Qualche quadro di paesaggio Comunque tutto molto molto carino Si può arrivare anche da qui Però è sempre preferibile Fare la strada Ovviamente corretta E niente Poi ovviamente qui sotto Cioè scusate Qui intorno C'è semplicemente il molo Per chi magari Lascia la nave a largo I pirati che magari Lasciano la nave Lì a largo Come le navi Che costruiremo in futuro E poi usano le scialuppe Per arrivare qui Le attraccano qui Ed entrano nella locanda L'ho messo anche una con la cesta E non mi ricordavo assolutamente Però vabbè Niente E' carina E' carina Ci può stare Direi che da qui possiamo uscire E credo di avervi fatto vedere tutto Se non forse vi posso far vedere Che qui magari C'è la nostra entrata Della caverna La nostra entrata principale In realtà E' inutile anche farvela andare a vedere Non c'è costruito niente Semplicemente E' una gigantesca Caverna abnorme E' anche abbastanza inutile Farvela vedere L'unica cosa bella E' che c'è la mineshaft Ma l'abbiamo vista dal vetro Nel corridoietto Del lab mineristico Perciò l'ultima cosa Che devo farvi vedere Al di là delle cose Che ho trovato in giro per il mondo Tipo la gigantesca Scuola dell'Hash Cave Che però Sinceramente non mi va di arrivarci Perché tipo ha 4-5 mila blocchi da qui L'ultima cosa Che comunque ho costruito qui E' il porto O meglio Lo sto ancora costruendo Infatti Nello scorso episodio Ho finito quello Che è il negozio di barche Che è questa struttura centrale enorme E' semplicemente Prima ho fatto Come vedete qui ci sono dei blocchi Che uso come punto di riferimento Cioè vedendoli Per vedere un po' Quali potrebbero essere Dei buoni accostamenti Lo lasciate qui Perché per l'appunto Il porto è ancora Tutto in costruzione Vi faccio vedere Ho fatto tutti i mori Che per il momento Sono così poi Quando avrò lo spruce Utilizzerò lo spruce Lo spruce Scusate perché è un po' Più chiaro Secondo me ci sta meglio Comunque questi sono i ponti Di attracco Per le varie navi Navi che poi costruirò Qui in fondo Penso di farne due o tre Incluso la Going Merry Di One Piece Forse farò anche Lasagni Perché non lo so Mi piace Sempre se è fattibile farla Poi ovviamente qui ci metterò Delle barchette più piccole Come ho fatto lì Per il molo Della Locanda dei Pirati Però comunque Vedete che È carino Diciamo Da parte del porto Comunque mi sto impegnando Per farla Poi qui ho fatto Delle strutture Dove questo è semplicemente Un punto di ristoro Fate vinta Quello sia Una specie di ristorante Ci dovevo mettere Effettivamente qualche fornaggio Mi sono dimenticato Però vabbè Non importa Quindi semplicemente Le persone che magari Sono stanche C'hanno fame Vengono qui E si mangiano qualcosina Questo tra l'altro È sempre aperto Così Poi qui c'è invece La zona del negozio Di alcolici Quindi Questi sono semplicemente I barilli di alcolici Dove c'è il room Che poi i pirati Si possono caricare Sulle loro bellissime navi Questo è una specie di Piccolo tendone Fatto molto molto a cazzo Che a me non piace Voi in commenti Vi avete detto Che alla fine è carino Pure così Io sinceramente In futuro Se avrò Della clay O della concrete colorata Non so se si possono fare Gli scalini con quelli Però se si possono fare Credo che lo rifarò Perché così Mi fa abbastanza cagare E poi c'è la costruzione Che ho fatto per ultima Che è il negozio di barche Dove qui c'è la mensola Delle varie barche in vendita Qui c'è il doppio bancone Il bancone Per chi si deve comprare la barca Il bancone Per chi si deve occupare Della manutenzione Perché a parte qui dietro Che ho messo una vetrina Con le diciamo Le ultime barche appena uscite Con le ceste bellissime Fantastiche Però comunque qui a destra C'è anche la zona manutenzione Con dei ponti che si alzano Con delle catene Che alzano le barche Per metterle sui ponti Un bancone da lavoro Una sega elettrica Per tagliare il legno Della barca I vari attrezzi La tavola da lavoro E c'è anche un piccolo magazzino Qui dietro Molto fatto Velocemente fatto a cazzo Però è giusto per Far sì che ci sia Effettivamente qualcosa E non solo la porta Così giusto per vista Qui tra l'altro vedete Ci sono ancora le ceste Qui in mezzo La crafting table Perché per l'appunto È ancora tutto in costruzione E nel prossimo episodio Infatti Penso che andrò a fare Questo edificio qui E poi continuerò Con un edificio Per volta Fino a finire tutto il porto Che ovviamente Sarà finito in parte Perché oltre ai vari edifici Devo fare tutta la parte Soprastante Tutto il muro Soprastante Con tutta la stradina E ovviamente Come vi ho detto Devo fare anche le barche Tra l'altro qui c'è il pillar Da dove inizio la maggior parte Degli episodi del porto Che è un po' Una rottura di coglioni Ogni volta devo romperlo Salire lì sopra Con i blocchi E poi fare la intro Buttare Ogni volta è così Però sti cazzi Comunque signori Questo era il mondo Fatto finora Ma dall'altro Vi faccio notare Che è lì È dove c'è la casa E niente Sporge del lino Perché questa montagna Come vedete Tipo qui La stavo facendo artificiale Per coprire lì Poi non l'ho più finita Ma giusto per dirvi Che a molte cose Io qui le inizio Poi sono contento Del risultato Per quanto riguarda La parte interna E poi la parte esterna Lascia un po' a desiderare Calcolate anche lì Dove c'è la cesta gigante Nella parte alta Siccome non avevo Più lana gialla E già prendere La lana gialla Per fare queste parti laterali È stato un casino Perché comunque Il colorante giallo Sono dovuto andarlo A prendere tipo Lontanissimo Perché qui ovviamente Non abbiamo fiori gialli E niente Nella parte alta La lana gialla Non c'è Però non si vede Non si vede Forse non si vede Neanche dal faro Perché comunque più o meno Come altezza è quella Forse la cesta è pure più alta E quindi Va bene così Non ce ne frega un cazzo Prima o poi Forse la riempirò Ma sti cazzi Comunque signori Detto ciò Direi che l'episodio 100 Si può concludere qui Perché comunque Vi ho fatto vedere Tutto il mondo Spero comunque che Per chi lo ha iniziato A vedere da poco Per chi ha iniziato A vedere da poco La serie Ma comunque Per chi ha iniziato A seguire tutto Il gigantesco progetto Della cazzo craft Da poco Comunque questo episodio Riassuntivo Spero gli sia piaciuto Per chi magari Dei primi episodi Spero comunque Gli sia piaciuto Rivivere un po' Di momenti Di quando Ho iniziato la serie Che comunque Ormai è passato Quasi un anno Calcolate Io ho iniziato A marzo o aprile Del 2023 Siamo a quasi Febbraio Del 2024 Quindi a tutti gli effetti È passato quasi un anno E questo è quello Che ho fatto In un anno di serie Non vi ho fatto vedere Il Nether Non vi ho fatto vedere L'End Per il semplice motivo Che nel Nether Non ci sono ancora mai andato Perché questa è una serie Survival Però particolare Non è una serie survival Dove voglio Trajardare Uccidere il boss O altro Ma voglio semplicemente Costruire Perché mi diverto A costruire Quindi era inutile Farvi vedere Cose che comunque Non ho fatto Cioè nel senso Nel Nether Non ci sono mai ancora andato E farvi vedere il Nether Comunque Non aveva maggiormente senso Perché A parte lo spawn Fantastico Che ci è capitato Che noi siamo praticamente Sponati di bianco A una Come si chiama Una Una fortezza Sì una fortezza del Nether Però nella fortezza del Nether L'ho esplorata un po' Ma sti cazzi Non ho fatto più nulla Perché non ci ho costruito nulla Ci vado di rato Veramente nel Nether Giusto per recuperare Qualche materiale Che mi serve Tra l'altro Qui nel negozio di barche Nella parte alta Devo mettere Tipo le lanterne Di Redstone O comunque Quelle lanterne Di Quei blocchi luminosi Che ci sono Negli alberi blu Nel Nether Non sono neanche ancora Andato a prenderli Perché non mi fa proprio Di andare nel Nether Sinceramente Quindi Sti cazzi Non ve lo faccio Nemmeno vedere Perché è inutile Comunque signori Questo è quello Che ho fatto Nell'arco di quasi Un anno di lavoro Continueranno i lavori Dal prossimo episodio Con tutta la zona del porto Che comunque Penso ci porteremo avanti Per anche più di dieci episodi Ancora Però alla fine Penso ne valga la pena Perché mi sembra Che sia uscendo Un bel Un bel progettino E per quanto riguarda L'evoluzione della serie Penso che dal prossimo episodio Farò qualcosa di diverso Quindi non vi farò più vedere Io che prendo Mi crafto roba Mi preparo Cioè potrebbe capitare Che qualcosa me la crafto Ma penso che per ogni edificio Che farò Mi metterò una cesta Con tutti i blocchi Che sono abbastanza sicuro Che utilizzerò Che mi basteranno Per fare il singolo edificio Quindi in un episodio Vi faccio vedere La costruzione di quell'edificio E basta Quindi gli episodi Da adesso in poi Non saranno più tanto Come una classica serie survival Dove si va ad esplorare A scavare A craftare A fare robe Ma sarà più che altro Un episodio Una costruzione Capiteranno gli episodi In cui magari voglio andare in miniera Per parlarvi di qualcosa Un episodio speciale Come questo Dove vi faccio vedere Magari il mondo Un episodio speciale In cui vado ad esplorare Qualche zona nuova Perché magari voglio andare A trovare lo spruce Voglio andare a trovare Il portale dell'end Voglio andare a trovare Scusate Una zona ghiacciata Comunque capiteranno Quegli episodi Come le più normali Serie survival Ma voglio Far sì che questa serie survival Sia incentrata Principalmente Sulle costruzioni Che ovviamente Non si fermeranno Alle costruzioni Di questo tipo Che sono degli edifici Ma saranno anche Come vi ho detto prima Delle navi O delle pixel art Che farò in giro Adesso sto aspettando Che ritorni Il giorno dell'acqua Il giorno del mare Perché l'anno scorso Avevo intenzione Di fare tipo una pixel art Di una bottiglia gigante Ma in realtà Non l'ho fatta più Perché non avevo Neanche la lana blu Per poterlo fare Comunque colorante blu Ma in realtà Adesso le cose Per fare il colorante blu Ce le abbiamo Quindi quando sarà Dimo il giorno del mare Vedrete una pixel art Non dico gigante Ma comunque abbastanza grande Di una bottiglietta d'acqua A kawaii Quindi sì Su questo io off camera Che vado in giro A recuperare le risorse E l'episodio Sarà solo il centrato Su me Che costruisco Vi faccio vedere Quello che faccio Perché secondo me È più carino così Così ci differenziamo Un po' dagli altri Che fanno sempre La solita serie survival L'uguale Dove vanno ad ammazzare Il boss Le cose così Sti cazzi Vaffanculo Cazzi e mazzi E noi facciamo qualcosa Di diverso Basato sulle costruzioni Comunque detto ciò Signori Spero il video vi sia piaciuto Sicuramente sarà uscito Tipo un video di un'ora Mannaggia la puttana Anche sull'outro Continuano a interrompermi Mannaggia la miseria Comunque signori Vi stavo dicendo Spero Oddio che vi stavo dicendo Spero vi sia piaciuto Vabbè sì Spero comunque Questo video vi sia piaciuto E il video sicuramente Sarà uscito tipo di un'oretta Forse un po' di meno Forse un po' di più Non lo so Però comunque Video lungo Ma comunque vi ho fatto vedere Tutto quello che ho fatto Perciò ci può stare Perciò signori Dal solito posto Visto che ormai Gli episodi Ultimamente li vediamo Sempre in apporto Direi che Ci possiamo salutare qui Perciò signori Con sullo sfondo Quella che alla fine È l'ultima costruzione Fatta per il momento Direi che Per questo speciale Centesimo episodio Basta così Spero il video vi sia piaciuto In caso vi invito A mettere like Se invece non vi è piaciuto Mettete dislike Ma commentate Dicendomi cosa non vi è piaciuto In modo tale Che possa migliorarmi Se vi sono simpatico Iscrivetevi Magari attivate la campanella Che a me come al solito Non dispiace mai E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao